Buongiorno, Pino Pace, per Giovani Sguardi 2020. Una delle nostre puntate di queste chiacchierate che facciamo nell'ambito di questa manifestazione è organizzata dall'Istituto Bodoni-Paravia, ormai da qualche anno. Questa è un'edizione, come sappiamo, che si svolge esclusivamente online, però che avrà poi anche una coda, speriamo, l'anno prossimo nella sede del Bodoni-Paravia di Prima. La scuola esce dai suoi confini, quindi porta le esperienze fatte durante l'attività didattica al di fuori, la conoscenza delle persone interessate. Possono essere studenti di materie che in qualche maniera si rifanno alla comunicazione, all'arte, alla grafica, alla fotografia, alla cinematografia, al video. E anche persone che in qualche maniera abbiano qualche tipo di interesse, agli insegnanti anche di queste materie. Oggi siamo qui con Camera, l'Istituto di Prema per la Fotografia, però volevo far dire anche due parole ad Arianna Poll, della quinta di tecnico del Bodoni-Paravia, che ci parla un po' di questa attività di giovani sguardo. Lei ha lo sguardo all'interno dell'istituzione, quindi sa come funziona, sa che cosa hanno fatto, sa che cosa hanno progettato, è quello che stiamo facendo. Per cui Arianna, hai la parola. Ciao, allora, grazie. Innanzitutto questa è sempre una bellissima opportunità per tutti noi ragazzi, ma non solo, sia di poter far vedere i nostri lavori, però anche di vedere quelli degli altri, quindi prendere spunti, prendere idee, che è sempre un buon auspicio. Partecipare ovviamente è un'emozione grandissima e penso che veramente sia fantastico, una bella opportunità e una bella iniziativa, molto interessante. E siamo molto curiosi, insomma, di sapere anche loro cosa hanno da dirci oggi. Allora sì, abbiamo avuto ospiti il Museo Nazionale del Cinema, le OGR. La settimana prossima parleremo di alcuni geni, tipo il Mocumentary, che è una cosa molto interessante, è una forma di documentario finto, però anche lì c'è bisogno di un linguaggio di raccontare queste cose. Oggi invece dicevamo che abbiamo questo appuntamento con Camera, che questa istituzione torinese, che però è un'istituzione in qualche maniera così peculiare di Torino, perché Torino ha di queste istituzioni così che sono particolarmente interessanti per queste cose. E attraverso due persone che ci racconteranno, uno che cos'è Camera, e due di una mostra in particolare che è in allestimento presso Camera. Arianna, tu volevi dire ancora qualcosa? Perché forse doveva partire la clip sull'allestimento, chiedo anche a Teo Cavaluzzo che si occupa della regia. C'è la clip dell'allestimento di... Ah, eccola. Arianna, se vuoi le due cose di cosa si tratta questo? L'iniziativa che c'è all'interno della nostra scuola, dove è comunque in corridoio, quindi ben visibile a tutti, si può tranquillamente andare a vederla, e sono appunto esposti tutti questi lavori dei ragazzi per dare anche i meriti, comunque far vedere le proprie capacità e quello che si è appurato, quello che si è imparato in questi anni all'interno della scuola, grazie appunto agli insegnanti e a tutto quello che ci hanno insegnato e l'ambito che ci ha permesso di arrivare, insomma, a questo punto. Benissimo, eh. Sì, questi appunto sono tutti i quadri stampati, tutte le fotografie che hanno fatto diversi ragazzi, ed è molto bello comunque anche passarci davanti, vederli, prendere, come dicevo prima, spunti, perché comunque è sempre un'ottima opportunità di vedere i lavori degli altri. Sì, sì, no, secondo me è anche molto interessante, dico ancora due parole, poi davvero cominciamo, io sono un ex studente del Bodoni, ma il fatto di... e quando c'eravamo noi, diciamo, facciamo le attività di ripresa, poi di stampa, delle fotografie, mancava un po' questa attività, diciamo, anche di far vedere quali sono i nostri lavori in giro. C'erano delle vecchissime fotografie che chissà a che epoca risalivano, che stavano lì da chissà quanto tempo, nessuno più sapeva che cosa. Adesso invece mi piace molto che c'è questo momento in cui uno impara a fare delle cose, poi in qualche maniera le restituisce, le mostra agli altri e poi il giudizio degli altri, lo sguardo di altre persone è sempre un momento molto interessante, come stanno i nostri amici di camera. In più ci sono sviluppate altre capacità, che sono anche quelle del racconto all'interno delle immagini che uno magari ha ripreso durante l'anno, durante la sua ricerca, e che devono essere disposti in una certa maniera, quindi cose di cui si occupano anche i nostri ossi. Quindi non perdiamo altre parole, grazie Arianna, ma poi con te ci rivediamo, perché se qualcuno avesse voglia di fare delle domande, naturalmente è auspicabile, e fatelo pure senza problemi, per esempio su Facebook c'è la possibilità di farlo, e anche sul portale del Bodoni Paravia, di Giovanni Sguardi, che appunto manda questi appuntamenti diretti, dove è possibile anche rivedere questi appuntamenti. Quindi, camera, Centro Italiano per la Fotografia, abbiamo due ospiti, che sono Cristina Araimo, che è del Dipartimento di Educazione di Camera, e Monica Poggi, che è del Dipartimento di Mostre di Camera. Cominciamo con Cristina Araimo, Dipartimento di Educazione, che ci racconta che cos'è camera e perché può interessare Arianna, ma anche me, diciamo, pubblico vasto. Grazie Cristina, prego. Grazie, grazie Pino, grazie molte, buongiorno, grazie per questo invito a partecipare in questa iniziativa bellissima, grazie a Mauro Minozzi, che è il professore dell'Istituto Bodoni Paravia, per averci invitato. E mi fa molto piacere, ovviamente, essere qui e avere questa occasione quasi unica di parlare direttamente con una platea di studenti. e mi fa piacere perché Camera è una realtà tutto sommato giovane e non è scontato che, appunto, tutti gli studenti che sono in ascolto la conoscano, il prossimo primo ottobre festeggeremo il nostro quinto compleanno, quindi siamo veramente giovani. Ed è una realtà che è nata proprio con un obiettivo preciso, quello di dotare Torino, prima di tutto, ma l'Italia poi, di un luogo che fosse deputato alla fotografia. E in questi cinque anni abbiamo prodotto un fitto programma di mostre, di mostre dedicate ad autori contemporanei, ad autori storicizzati, presentando la fotografia un po' in tutte le sue possibilità espressive, sapendo che è una forma d'arte, una forma di documentazione della realtà, una forma d'arte capace a sua volta di dialogare con altre forme d'arte. Eppure, però, l'esperienza a Camera abbiamo fortemente voluto che non si esaurisse nella visita alla mostra, anzi, nella nostra intenzione la visita alla mostra è una scintilla che deve accendere nel nostro pubblico l'interesse ad approfondire i temi delle mostre che proponiamo. E in particolare, diciamo, lavoriamo affinché i più giovani si appassionino ai protagonisti delle mostre che proponiamo. E quindi questo come succede? Innanzitutto progettiamo delle attività educative rivolte alle scuole, quindi noi di solito parliamo direttamente con le scuole docenti, e pensiamo ad attività educative che in qualche modo servano a approfondire i temi delle mostre in corso. E ovviamente l'attività si svolge con una mostra, con la visita alla mostra iniziale, e poi delle attività di laboratorio che hanno un preciso obiettivo, che è quello di far capire ai ragazzi come l'arte e la fotografia, in questo caso, sono ovviamente delle forme espressive, bellissime, affascinanti, ma ci parlano sempre della nostra e della loro contemporaneità, della loro quotidianità. Quindi ogni attività educativa, parlo nello specifico dei laboratori, e quindi cosa fanno gli studenti quando vengono a camera? Entrano in un dibattito, in un dialogo aperto con i nostri mediatori culturali e approfondendo e dibattendo sui temi che le mostre inevitabilmente sollevano. E mi fa piacere dire anche che in questi anni abbiamo attivamente collaborato con le scuole, in particolare le scuole come l'Istituto Bodoni Paravia, dove i ragazzi hanno deciso di studiare, di approfondire il loro percorso di formazione intorno alla comunicazione, all'audiovisivo, all'immagine. E con loro in particolare abbiamo attivato dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Mi ha fatto piacere vedere prima le immagini di allestimento della mostra, che è sempre un momento molto emozionante. E nelle nostre attività di alternanza scuola-lavoro abbiamo coinvolto gli studenti accompagnandoci in quei momenti che il pubblico non vede, che sono i momenti del disallestimento e dell'allestimento di una mostra, che sono momenti in cui si impara veramente tanto, in cui si vede come nasce una mostra, si partecipa a questo momento così suggestivo, e quindi coinvolgendoli e cercando di dare loro degli input pratici su quello che poi eventualmente può diventare anche un percorso professionale. E mi fa piacere anche sottolineare che quando parliamo ai giovani, come quelli che oggi studenti che ci seguono, quindi persone che stanno finendo un ciclo di studi e che devono, si apprestano a decidere cosa sarà poi, cosa faranno a settembre, come continuerà questa passione, questa passione rimarrà una passione o diventerà un lavoro. E noi facciamo in modo, appunto, come dicevo, che questa scintilla che nasce con la visita alla mostra poi possa continuare attraverso altre attività, come ad esempio quella dell'incontro con i protagonisti delle nostre mostre, attraverso un programma di incontri che ci consente di mettere in un contatto diretto gli autori, i professionisti del mondo della fotografia con il pubblico. Ed è bellissimo vedere che nel corso dei nostri incontri il programma dei giovedì in camera sono tantissimi poi i ragazzi che si fermano a chiedere informazioni a chi viene a raccontare la propria esperienza. Magari è un fotografo affermato, un fotografo nazionale, internazionale, da cui è interessantissimo per loro sapere come è iniziato, quali sono stati i primi passi, quali sono stati quei momenti cruciali che hanno dato la svolta. E in questo senso per noi è un motivo, per il Dipartimento di Educazione di Camera, motivo di grande orgoglio aver sostenuto e partecipato all'ingresso di giovani appassionati nel mondo professionale della fotografia attraverso una masterclass che Camera realizza con l'ICP, l'International Center of Photography di New York, che possiamo dire è uno dei più importanti, se non il più importante in assoluto, luogo di formazione per la fotografia al mondo, fondato nel 74 da Cornel Capa, con cui noi realizziamo una masterclass in altra formazione, un'occasione unica, e sicuramente l'unico avamposto in Europa dell'ICP che sta a New York. Abbiamo accolto in questi cinque anni un numero molto ampio di studenti provenienti da Torino, ma da tutta Italia e da tutto il mondo, devo dire, perché è veramente un'occasione unica quella di avere la possibilità di formarsi in maniera molto specialistica sulla fotografia, su tutte le sue possibilità espressive, su tutte le sue implicazioni anche tecniche, con il supporto di docenti americani che vengono solitamente a Torino per un mese intero, e quest'anno invece, a causa delle ovvie limitazioni agli spostamenti dovute all'emergenza sanitaria, questa masterclass sarà online, in una forma più ridotta, ma comunque abbiamo voluto conservare una continuità. e questo per noi è stato, questa esperienza con l'ICP è stata, ed è, continua ad essere, un motivo di grande orgoglio perché abbiamo visto nascere, abbiamo visto i primi passi nel mondo professionale della fotografia, che è un mondo complicato, e di studenti che sono stati con noi, che hanno cominciato a Torino e che poi sono stati a New York per un anno, perché l'accesso alla masterclass a Torino consente l'accesso diretto all'ICP, che altrimenti prevede una selezione molto dura, quindi la partecipazione alla masterclass di Torino consente automaticamente la possibilità di iscriversi all'ICP di New York, e quindi questo per noi, dicevo, è stata un'esperienza veramente bella, diciamo, un'occasione in cui si è concretizzato un obiettivo. Quest'anno, ad esempio, sarà con noi, presenteremo il lavoro di Lucia Buricelli, che è una giovanissima fotografa italiana, che è stata, ha partecipato alla masterclass a Torino, poi è stata a New York, quest'anno internazionale, e gli ha pubblicato un bellissimo lavoro che lei ha fatto di documentazione della sua quarantena nella sua casa milanese, con delle fotografie molto belle, molto divertenti anche, nonostante il momento, molto Martin Parr oriented, ma comunque con un suo stile molto preciso durante, nonostante la sua giovane età, e quindi, diciamo, ci piace raccontare e coinvolgere, diciamo, chi è partito con noi, e che adesso, per la propria, diciamo, intraprendenza, bravura, ma anche grazie al nostro supporto, è riuscito a farsi, diciamo, a farsi notare, ecco, nel momento. Perdonami Cristina, se mi intrometto, ma così per due cose che mi hanno incuriosito del tuo discorso, a me piace molto questo discorso del fatto che ci siano i fotografi, questi fotografi molto conosciuti, molto affermati, in qualche maniera incontrano poi i ragazzi e trasferiscono qualcosa, mi occupo di letteratura per ragazzi e ho notato che, per esempio, per l'amore della lettura è molto più utile il fatto di incontrare una persona appassionata, piuttosto che uno che ti dica leggi, leggi, e tu, in qualche maniera, vedi questa passione, la riconosci e c'è qualcosa appunto che ti lega a questa persona poi al di là del, che va al di là proprio di questioni anagrafiche, di distanza, eccetera. Allora, io guarda, ti farei soltanto una cosa, se mi permetti, naturalmente, cederei la parola un attimo a Cristina Raimo così ci introduce subito a uno di questi personaggi, a uno di questi artisti di cui stavi parlando, poi magari riprendiamo un attimo il tuo discorso verso la fine, cioè verso la fine, a metà della chiacchierata e puntualizziamo anche due o tre cose, a me piacerebbe per esempio sapere questi ragazzi, ma anche noi ormai viviamo tutti quanti immersi in un mondo di immagini impressionanti, noi produciamo una quantità di fotografie che una volta avremo prodotto il nostro in una settimana, facciamo le fotografie che avremmo fatte in un anno probabilmente, no? Ecco, e poi le mandiamo in giro, le riceviamo in tutte le maniere, ecco, però poi c'è camera, no? Che in qualche maniera dice sì, ci sono tutte queste cose, ma c'è anche maniera per raccontare queste cose, per sistematizzarle, per renderle un'altra cosa rispetto a questo film. Pino, prima dicevo a proposito dei percorsi per le scuole, quello che su cui noi battiamo tanto non è tanto la formazione tecnica, quanto quella che piace chiamare l'educazione all'immagine, che cosa vuol dire? Vuol dire imparare a codificare un linguaggio, cioè siamo tutti d'accordo che la fotografia è il linguaggio contemporaneo per eccellenza, il linguaggio trasversale, comprensibile a tutti, ma non codificabile da tutti, quindi l'educazione all'immagine a cosa serve? Serve a leggere in maniera consapevole l'immagine e a in qualche modo riuscire a interpretare la contemporaneità in una maniera più critica e imparare una lingua, e imparare a conoscerla, ad utilizzarla, quindi a produrla, ma anche a esserne fruttori. Noi qualche anno fa, a proposito di questa sovrabbondanza di immagini da cui siamo quotidianamente diciamo bombardati, abbiamo ospitato la bellissima mostra di Eric Kessels, il quale ha letteralmente inondato con una sua opera che si chiama 24 Hours, i corridoi, una stanza di camera con una montagna di fotografie, era la materializzazione di quello che tu stai dicendo, una montagna di fotografie che teoricamente sono le fotografie che la rete o un social media, non mi ricordo quale, produce in un giorno. e abbiamo sottolineato in quell'occasione, grazie anche al linguaggio e al lavoro di Kessels, come questa, diciamo, questa sovrapproduzione di immagini oramai ci riguarda sempre più, sempre più di avvicino e quindi sempre più urgente renderci consapevoli di come, di quali siano gli strumenti utili a muoverci in questo, diciamo, oceano di immagini in una maniera un pochino più critica. Certo, certo. Ecco, infatti, allora, sicuramente uno di queste persone che in qualche maniera ha la sua maniera peculiare di raccontare la fotografia, di raccontare poi la vita, le cose, attraverso la sua sensibilità, attraverso la tecnica ma anche la sua sensibilità, sicuramente è Paolo Ventura. E questa mostra che ci sarà, dimmi se ho detto bene, Monica Poggi in autunno che si chiama Carosella, appunto, ce ne vuoi parlare un po' di cosa si tratta e che lavoro fai tu naturalmente all'interno di questa mostra? Grazie, pieno, intanto sono molto contenta di essere qua parlando di Paolo Ventura proprio perché credo che il suo percorso legato al mondo della fotografia sia uno dei percorsi più particolari e più interessanti da seguire. Paolo nasce nel 68 a Milano e si scrive all'età dell'università in accademia senza finirla. Lui si avvicina al mondo della pittura per quasi ragioni familiari nel senso che il padre è un illustratore di libri per bambini e quindi il disegno, la pittura ce l'ha veramente nel sangue ma si rende conto che quella non è la sua strada. Uscito dall'accademia si avvicina al mondo della fotografia pubblicitaria ma pure quella non sembra essere la sua strada allora abbraccia il mondo della fotografia di moda che ancora una volta si rivela non essere la scelta giusta finché a inizio anni 2000 si trasferisce a New York e inizia il suo percorso di ricerca utilizzando la fotografia ma utilizzandola in una maniera particolarissima nel senso che lui si rende conto di un limite della fotografia che è quello della realtà di essere legato alla realtà ma il suo estro fantasioso e creativo vuole andare oltre quindi inizia a creare delle storie e a metterle in scena attraverso dei burattini e dei pupazzetti infatti se adesso mandiamo la fotografia la prima fotografia vedete il suo primo lavoro effettivamente compiuto in cui Paolo mette in scena i ricordi della nonna questo sarà appunto uno dei lavori che avremo in mostra e di fatto la fotografia è utilizzata per raccontare una scena che lui ricrea in maniera teatrale quindi c'è una manualità molto grande diceva appunto che sono molto contenta di parlarne proprio perché il suo lavoro mette insieme fotografia ma mette insieme anche un aspetto scultorio è un aspetto pittorico c'è tanto teatro nelle sue immagini quindi credo che chi verrà a vedere la mostra sarà sorpreso da quanto un museo di fotografia possa uscire dalla macchina fotografica in senso stretto nelle sale infatti noterete che ci saranno diverse opere molto poco fotografiche in realtà molto legate ad esempio al mondo della ricerca di un'identità infatti Paolo sempre come dato anagrafico fondamentale nel suo percorso artistico c'è il fatto di essere un gemello e quindi molto della sua ricerca si struttura su delle questioni identitarie lui racconta che da bambino subiva spesso la domanda chi sei tu che era apposta ovviamente nel senso di chi sei tu Paolo o Andrea il fratello gemello ma che lui interpretava in una maniera esistenziale quasi e quindi il tema dell'identità ritorna e ritorna tanto in tutti i suoi lavori dall'inizio della sua carriera fino agli ultimi una cosa caratteristica della mostra che avremo a camera è che si tratta di una personale quindi comprenderà solo le sue opere ma non sarà una vera e propria antologica nel senso che avremo tanti dei suoi lavori non tutti chiaramente anche perché Paolo è un artista che ha una produzione molto vasta e quindi ci vorrebbero tre camera almeno per contenerle tutte forse non basterebbe ma abbiamo un percorso non lineare all'interno della sua carriera quindi nelle varie sale avremo insieme opere più vecchie e ad alcune opere più recenti con una certa quantità di installazioni particolari che infatti stanno mettendo a dura prova le nostre esperienze ma che saranno veramente interessanti infatti abbiamo la seconda immagine che è un regalo di Paolo di fatto che Paolo ha fatto camera cioè sono delle sorte di render in cui lui disegna appunto come sarà la mostra e sono molto contenta perché in realtà voi siete i primi a vederle nel senso che queste immagini non le abbiamo ancora mai pubblicate e quindi per voi è una piccola anteprima vedete ad esempio nella parete con il fondo rosso è uno dei suoi ultimi lavori è un lavoro assolutamente non fotografico perché quelle facce che voi vedete sono delle maschere e appunto quindi torna questo tema dell'identità che è ricorrente nella sua ricerca ricorrente altrettanto è il tema del teatro già il titolo di per sé è un'opera teatrale per cui lui ha lavorato a Chicago al teatro di Chicago e il titolo della mostra intendo Carousel ma la frequentazione col mondo del teatro è ricorrente e già qualche anno fa ha fatto una collaborazione col teatro Reggio di Torino pensando all'allestimento dei pagliacci nella seconda sala infatti noterete dalla prossima immagine che avremo un'installazione molto molto immersiva forse qua non si nota tanto e di questo sono contenta perché così siete stimolati a venire in mostra ma questa sarà una vera cascata di costumi di costumi che lui utilizza per creare le sue immagini che ovviamente richiamano anche questo legame col mondo del teatro e ancora una volta è una commissione di opere diverse di diversi anni di diversi periodi di diversi progetti quindi questa sarà veramente una mostra scomposta quasi mi viene da dire cioè in cui tutto quello che vedrete non avrà una sequenza temporale ma la scelta appunto di presentare alcune delle opere più significative del suo percorso in questo caso quindi appunto con i vestiti gli abiti di scena torna di nuovo la tematica dell'identità perché Paolo nei suoi lavori usa spesso la sua figura la sua persona e quella di sua moglie di suo figlio per mettere in scena delle storie come vi dicevo infatti uno dei lavori con cui è diventato più famoso dopo quello di War Souvenir che vi ho mostrato prima sono le varie short stories in cui lui mette in scena delle piccole narrazioni fantasiose in cui succedono delle cose improbabili nel caso della quarta figura che vi mostriamo adesso ad esempio un uomo perde la sua consistenza e assume la statura di un bambino ecco le persone che voi vedete sono appunto il figlio e lui che sono gli attori principali delle messe in scena di Paolo insieme appunto come vi dicevo la moglie e che assumono di volta in volta ruoli diversi una volta Paolo è un pagliaccio la volta dopo è un mago la volta successiva ancora è qualcosa di nuovo uno dei temi ad esempio che torna spesso è quello della guerra come vedevate quindi spesso è il personaggio del soldato ecco e tutto ciò accade per una ragione nel senso che Paolo lavora tanto sulla memoria quindi tutto ciò che lui elabora attraverso le sue immagini sono delle reinterpretazioni di racconti di di narrazioni oppure di vicende personali che lui vede e rivive e rimette in scena in questo caso ad esempio la fotografia è l'omaggio a Sol Steinberg che è un illustratore quindi c'è sempre una dimensione molto immaginare ecco nel suo lavoro non vi mostro le altre sale anche perché non vogliamo spoilerarvi troppo però vi posso raccontare ancora che ci saranno altre installazioni scultore perché molto spesso Paolo per realizzare le sue immagini non solo costruisce come in questo caso che state vedendo dei set teatrali ma costruisce proprio fisicamente delle strutture che spesso sono delle case che poi fotografa e ripropone all'interno di un paesaggio che si smaterializza nel senso che una direzione che sta prendendo la ricerca di Paolo è appunto quella di utilizzare la fotografia ma coprirla in certi casi infatti vedete nell'immagine numero 5 appunto che le case che voi vedete sono case reali nel senso che sono dei modellini che lui ricrea e su cui lui poi interviene con la pittura sempre più negli anni il lavoro di Paolo è stato pervaso dalla pittura e quindi da una forte manualità e da una forte dissolvenza della fotografia in realtà questa pittura tornerà anche in mostra camera perché buona parte dell'installazione verrà fatta fisicamente da Paolo noi non avremo i classici testi scritti con i prespaziati che si usano normalmente nei musei che rendono tutto molto pulito e molto asettico ma avremo la scrittura a mano dell'autore quindi questa qua sarà veramente una mostra in cui si sperimenterà tanto a camera e si uscirà un po' dagli schemi tradizionali del mondo fotografico ecco sì scusa permettimi se ti interrompo davvero è chiaro che si tratta di fotografia ma la fotografia è una delle cose che stanno intorno al lavoro di Paolo Ventura mi sembra estremamente interessante c'era Arianna forse che aveva una domanda che sta arrivando dalle persone che ci guardano Arianna mi confermi questa cosa? sì sì esatto allora prego falla sì nell'installazione della mostra quindi l'artista fornisce a un grande contributo allora grazie della domanda sì diciamo che questa mostra qua non può essere proprio installata senza di lui nel senso che lui non solo fornirà le opere ma farà quasi da mano valante nella creazione proprio degli spazi nella gestione degli spazi quindi è una mostra che stiamo mettendo in piedi davvero tanto in sinergia con lui ed è forse l'aspetto bello di lavorare con degli artisti viventi perché la mostra in sé è quasi un'ulteriore opera di cui le sue opere precedenti sono degli elementi ecco come in questo caso noi abbiamo i personaggi che sono sempre lui il ritratto che sono dei piccoli elementi inseriti in un paesaggio nel caso della nostra mostra ogni piccola opera ogni piccola fotografia sarà come uno di questi elementi inseriti in un paesaggio più grande che la mostra complessiva quindi sì Paolo sarà tanto presente in tutte le fasi bene e un'altra cosa invece a me è piaciuta moltissimo quella fotografia poi fotografia è vero è un set dove c'è lui con questo bambino si tengono per mano questo bambino che ha questa un po' questa divisa da imbonatore da circo ecco non so come definirla dove c'è un lavoro estremo di costruzione quindi c'è un fondale c'è una messa in scena vera e propria c'è un set come dicevi tu e mi piaceva chiedo a te come curatrice diciamo come persona che si occupa di queste cose se in qualche maniera preferisci lavorare con artisti poi mi rendo conto che non sono cose assolute magari ogni storia è una storia a sé ogni esposizione è una storia a sé con artisti che fanno questo tipo di lavoro oppure con artisti invece c'è quest'altro uso estremo rispetto a questa fotografia che invece è la fotografia istantanea non so le reportage le fotografie d'occasione in cui sei in un posto in un determinato momento e catturi quel momento lì che non può essere altimedia questo è tutto un altro genere di fotografia tu cosa preferisci tra i due e come si lavora eventualmente nelle due accezioni allora intanto faccio scusami un piccolo passo indietro per risponderti perché questa è una cosa molto divertente nel senso che Paolo inizia a fare questi lavori dal momento in cui acquistano a casa d'Anghiari in Toscana e nel momento della ristrutturazione della casa gli operai che dovevano mettere a posto il soffitto di questo vecchio fienile che sarebbe diventato suo studio lo rompono e quindi rimane uno squarcio nel soffitto che lui chiede di preservare e quindi fa mettere un lucernario e di fatto questo vecchio fienile diventa quasi casualmente il set perfetto perché quella luce che voi vedete in quelle immagini lì è dovuta proprio a questa situazione architettonica e quindi queste sono opere quasi che nascono da un piccolo incidente di ristrutturazione e voi vedrete se andate a cercarlo su internet che questa pavimentazione è fatta di acidi lì e ne rimane e poi cambia il fondale dietro quindi c'è anche una mi piaceva raccontarvelo per entrare un po' anche nello studio per quanto riguarda la tua domanda io credo che entrambi gli usi della fotografia siano molto interessanti dipende dall'attitudine del fotografo nel senso che un artista come Paolo credo che sarebbe quasi violentato dal dover essere limitato all'istantanea proprio perché la sua esigenza è quella di di raccontare qualcosa che non c'è nella realtà e quindi la mette in scena altrettanto valido è un approccio diverso per cui l'istantanea diventa un momento per cogliere la realtà nei due casi l'approccio è fondamentalmente diverso perché nel caso dell'approccio dell'allestimento o comunque della messa in scena di una mostra nel caso di Paolo la libertà è pressa poco totale cioè il suo lavoro ci consente anche di uscire dagli schemi proprio della fotografia tradizionale ci consente di installare degli abiti e non solo delle stampe un lavoro di altro tipo magari ha bisogno di un approccio più rigoroso in un certo senso ed essendo spesso legato a situazioni di attualità ha bisogno anche di una delicatezza nel trattare i temi diversa perché quando un autore si occupa ad esempio di tematiche contemporanee è ovvio che si sta parlando di qualcosa che succede realmente nel mondo e quindi un museo deve essere in grado di raccontarle rispettando la sensibilità di tutte le persone coinvolte rispettando anche l'evento stesso che è stato raccontato non so se ho risposto alla tua domanda no 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 sì no ma mi rendo conto che non sia facile anche perché per esempio non è facile delle immagini che ci hai fatto vedere alcune veramente per me sono sfolgoranti non conoscevo questo fotografo ma è un problema mio e mi dispiace perché davvero ci sono delle bellissime cose cioè si fa fatica anche a capire cos'è materico cos'è vero e cos'è fotografia per esempio la prima foto che ci hai fatto vedere è quella che sembrava un rastrellamento analista quella è una fotografia immagino cioè non c'è un allestimento non ci sono queste figure all'interno di camera no è una fotografia di una di un set che lui ha creato ad hoc facendo poi queste sì questa è una stampa effettiva cioè sarà una stampa quindi la vedrete come una fotografia tradizionale anche se ovviamente forse da video si vede meno ma e no poi si vede anche poco proprio il mezzo che non è l'ideale infatti le mostre andatele a vedere esatto andatele a vedere nei posti in cui sono allestite perché guardarle su internet non è la stessa cosa ovviamente sì scusami nel lavoro di Paolo l'aspetto bello è proprio questo che se lo guardi distrattamente da lontano magari ti può sembrare tutto reale e poi avvicinandoti scopri che questi qua sono dei fantocci lo puoi vedere ovviamente con una risoluzione giusta poi come vi dicevo prima progressivamente nel tempo il lavoro di Paolo si è sempre più distanzato proprio dal mezzo fotografia e di conseguenza la fotografia fisicamente nell'immagine è presa sempre più un posto minore e quindi troviamo tantissima campitura di colore di pittura e dei piccoli elementi fotografici che secondo me rendono ancora più interessante il suo lavoro perché qua si inverte quasi la questione se prima pensavi di vedere una fotografia e poi ti rendi conto che in realtà questo qui è una messa in scena negli ultimi lavori pensi di trovarti di fronte a un dipinto e poi avvicinandoti ci sono degli elementi iperrealistici che sono quelli fotografici certo come anche in questa foto sempre questa qui dal rastrellamento c'è questa illuminazione che a me sembra davvero un'illuminazione teatrale non è realistica come illuminazione avevo intuito che fossero dei fantocci anche se non ero sicuro però in qualche maniera così e poi se mi permetti c'è una cosa che a me piace molto e questo adesso le mie reminiscenze degli studi perché ormai risalgono a qualche decennio fa per cui magari dico delle stupidaggini al punctum di cui parlava Roland Barthes questa bicicletta buttata per terra questo cappello per terra che mi piacciono molto cioè veramente danno nella irrealità però pensiamo a quella situazione quanto potesse essere reale per le persone che la vivevano secondo me davvero se uno pensa di vivere quelle situazioni lì davvero ci sono degli elementi surreali uno non può pensare di essere sbattuto a muro da dei militari armati e perquisito e magari anche cucinato davvero quindi non lo so è una foto molto potente molto forte che a me piace molto poi questo lavoro nasce appunto da una ripresa dei racconti che la nonna di Paolo che aveva vissuto i rastrellamenti a Milano gli ha riportato quindi ci sono varie fasi di mediazione diciamo il suo non è un racconto sulla guerra il suo è un riportare i racconti della nonna sulla guerra quindi c'è un'ulteriore fase e in questo caso io ho scelto questa immagine perché è molto forte ma in questa stessa serie sono presenti tante immagini di diamanti nascosti per le strade della città quindi non c'è solo l'elemento proprio della guerra in senso stretto ma c'è anche della gente come viveva quei momenti e quindi ti rendi conto anche della della differenza tra i racconti ufficiali che abbiamo di certe situazioni quindi quelle dei reporter tradizionali e invece la memoria delle persone che le hanno vissute che hanno vissuto un momento tragico ma in mezzo a questo momento tragico c'erano dei barlumi di quotidianità quindi questo rafforza di più ovviamente in questo caso ve ne potevo mostrare poche quindi ne ho scelta una ecco Monica avevi ancora delle foto da farci vedere sì allora vi mostro non voglio metterti in fretta però poi abbiamo uno a disposizione per cui poi sono io che ho divagato quindi prego vi mostro giusto le ultime due immagini che fanno parte di l'immagine 6 esatto fanno parte di uno degli ultimi progetti perché una caratteristica di questa mostra è che appunto iniziamo dalle prime opere ma poi arriviamo fino a davvero all'ultime che sta facendo tuttora in questo caso questo è un lavoro che in cui lui rivisita tutta la tematica degli ex voto quindi subentra ancora un altro argomento della sua ricerca perché Paolo non solo è un artista davvero che spazia fra tanti linguaggi ma colleziona anche tanti oggetti è un ricercatore di oggetti particolari che arrivano dal passato e quindi una delle sue collezioni è appunto quella degli ex voto che lui reinterpreta in maniera anche affettosamente ironica quindi vediamo queste scene bizzarre strane in questo caso questo coniglio gigante che potrebbe essere in procinto di mangiare il mago oltretutto l'abito che Paolo indossa verrà esposto nell'altra sala appunto con gli abiti quindi c'è anche molti collegamenti interni alla mostra e nella prossima immagine sempre questa qua della serie di grazie ricevuta sempre un altro ex voto contemporaneo in cui questo uomo viene mangiato da questo pesce sì nella poetica di Paolo diciamo che c'è una forte forte componente surreale non si capisce mai quanto lui ci stia prendendo in giro con le sue storie e quanto siano davvero frutto dei suoi sogni che lui traspone in immagine non so se va bene grazie va benissimo Monica ci sono tantissime cose io verrò sicuramente a vedere Carusel a camera quando è che inizia la mostra hai qualche notizia la mostra inaugura il 17 settembre chiude l'8 dicembre quindi avete un po' di tempo oltretutto noi anche adesso abbiamo un'altra mostra aperta completamente diversa quindi se quest'estate avete voglia di fare un giro nei musei c'è una mostra molto bella sulla collezione Bertero però questa di Paolo inaugurerà il 17 settembre va benissimo grazie grazie mille Arianna tu volevi dire qualcosa hai qualche domanda da fare no 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 tutto perfetto è stata allora io passerei di nuovo la parola a Cristina così anche in base alle cose che ci siamo detti magari se vuoi aggiungere qualcosa che non abbiamo affrontato che non è uscita prego ma guarda io sono veramente molto curiosa di vedere diciamo l'apertura di questa mostra che diciamo nella sua fase di preparazione è già diciamo così fa sognare lavorare a stretto contatto con l'artista e spero adesso stiamo lavorando a questo stiamo lavorando alla diciamo programmazione di attività che possano coinvolgere il più possibile Paolo per cui ci auguriamo che covid permettendo potremo ritornare ad avere le visite guidate a camera e mi auguro che Paolo potrà essere diciamo una guida d'eccezione alla mostra perché sarebbe veramente prezioso il suo racconto su questo progetto e quindi sicuramente ci adopereremo per coinvolgerlo in uno dei nostri incontri per cui diciamo tutti questi spunti che Monica ci ha raccontato e che sembra siano solo accennati perché sembra un po' la punta dell'iceberg sull'universo che è tutto da scoprire e quindi ci auguriamo veramente di riuscire ad averlo in uno dei nostri incontri in persona mi auguro veramente di sì insomma che in settembre la situazione possa essere come dire migliorata e quindi ritornare a programmare in presenza i nostri incontri e poi già in luglio pubblicheremo le nostre attività educative quindi rivolte ai ragazzi sulla mostra di Paolo e ci sarà da divertirsi quindi insomma ci auguriamo di incontrarci a camera Cristina tu hai detto pubblicheremo quindi c'è un'attività editoriale di camera pubblicheremo nel senso che pubblicheremo online sul nostro sito e per noi la pubblicazione diciamo il momento in cui rendiamo apriamo diciamo le attività attraverso il nostro sito internet che poi è quello il mezzo attraverso il quale prevalentemente diciamo comunichiamo con il pubblico social media benissimo ecco un'altra cosa che volevo chiedere hai già detto che collaborate con le scuole col Bodoni Paravia per cui ci sono dei momenti in cui ci sono questi contatti ecco ma se una scuola anche magari non di Torino volesse provare a mettersi in contatto con voi per proporvi delle cose poi chiaramente sempre in base alle vostre disponibilità in base sono cose che andrebbero vagliate ovviamente come può farlo cioè accettate questo tipo di proposte le auspicate le accettiamo siamo sempre molto molto aperti a ogni tipo di stimolo che provenga dalle scuole diciamo che solitamente siamo noi che siamo anche abbastanza diciamo martellanti con le scuole perché ci fa piacere diciamo condividere il più possibile ma le scuole possono contattarci noi abbiamo un indirizzo email che è didattica chiocciolacamera.to su cui riceviamo la maggior parte delle comunicazioni rientico al telefono perché in questo momento siamo tutti in smart working altrimenti anche al telefono ma un email come primo contatto secondo me è una cosa perfetta diciamo che abbiamo avuto la fortuna di collaborare anche con scuole non torinesi ecco nei mesi scorsi negli anni passati quindi insomma è sempre interessante per noi ricevere proposte anche da altri studi che provengano da altre regioni aspetta che c'è il professor Minozzi che dice che avete dei bei quaderni didattici o alcuni dei quaderni didattici allora Minozzi dice forse si riferisce alle dispense che abbiamo realizzato probabilmente sì del lockdown immagino di sì perché ovviamente non appena si è capito che le scuole purtroppo non avrebbero riaperto abbiamo progettato delle attività dedicate alle scuole abbiamo iniziato con le scuole secondarie di secondo grado ma poi le abbiamo realizzate anche per le scuole secondarie di primo grado le scuole primarie sono quaderni come li chiamano il professor Mauro Minozzi sì sono anche quaderni in cui accompagnati docenti in attività da svolgere a partire dalle foto della mostra memoria e passione con anche dei punti di dibattito con gli studenti quindi con rimandi al cinema alla letteratura alla contemporaneità per farti un esempio c'è un'attività che ruota intorno alla diciamo alla fotografia di paesaggio di architettura e c'è un rimando con un articolo è un servizio della CNN dedicata alla riconversione dell'ospedale alla costruzione dell'ospedale di Wuhan durante la pandemia che è la riconversione di un edificio deputato ad alto quindi abbiamo cercato di creare connessioni tra la fotografia e la contemporaneità per noi questo rimane un filo rosso un filo conduttore fondamentale cioè partire dalla mostra partire dal lavoro degli artisti degli autori ma sempre per riflettere sulla contemporaneità affinché i ragazzi possano anche capire e conservare il valore dell'esperienza dell'arte nella propria esperienza personale sì sì questa cosa io mi trovi perfettamente d'accordo anche perché per riprendere un po' il discorso e poi davvero ci avviamo verso la fine dell'inizio il fatto che noi facciamo e subiamo certe volte una gran quantità di fotografie il fatto di provare anche a farle bene che significa conoscere anche quello che hanno fatto le altre persone quando la fotografia diventa un discorso diventa un riflettere sull'immagine su che cos'è e mi sembra che questa mostra sia una mostra in qualche maniera davvero paradigmatica in questo senso qua e ci aiuti in qualche maniera anche a dire meglio le cose che abbiamo da dire come quelli che leggono tanti libri alla fine riescono a esprimere meglio quello che hanno in cuore nel cuore e così anche il fatto di conoscere di venire anche a vedere le mostre di camera ci aiuta poi a fare meglio le fotografie e a godere meglio delle fotografie delle immagini che tutti i giorni abbiamo a me è piaciuto molto e torno un attimo soltanto a Monica Poggi questo discorso che facevi di Paolo Ventura che non riusciva a trovare la sua strada ecco che è una cosa che io lavoro un po' nelle scuole cipatico per cui che tanti studenti pensano di esame io sono non valgo niente perché ho provato a fare questo ho provato a fare l'accademia non ci sono riuscito ho provato a fare questo non ci sono riuscito c'è anche un'etica e un'estetica dello sbagliare strada che in qualche maniera poi ti può portare lo so che è una domanda difficile e complessa però ecco lo chiede a Monica e lo chiede anche a Cristina che in poche parole ci può far poi trovare la nostra strada prego allora rispondo io intanto sì cioè sicuramente credo che ci sia forse anche in alcuni casi la necessità di sbagliare strada nel senso che per Paolo che si è sempre sentito dire di essere arrivato troppo tardi a un certo punto si è finalmente reso conto di essere nel posto giusto al momento giusto e quindi c'è anche la perseveranza di voler trovare un modo per esprimere se stessi perché in questo caso qua poi veramente si trattava davvero di un modo per esprimere se stessi lui è sempre stato nello stesso ambito quindi quello creativo diciamo ma nell'arte è riuscito a trovare veramente una propria declinazione e la cosa forse più divertente legata alla sua biografia è che pur essendo sempre arrivato in ritardo rispetto al mondo della pubblicità al mondo della moda adesso come artista gli si chiede di fare immagini pubblicitarie per la moda quindi non più lui che deve sottostare alle necessità di un brand ma il brand che si affida alla sua poetica al suo immaginario per raccontare se stesso ad esempio lui ha fatto delle campagne pubblicitarie per Ulrich quindi veramente la cosa si è capovolta nel senso che non è stato più lui a rincorrere quel mondo lì ma quel mondo lì che ha rincorso lui proprio perché lui attraverso la sua poetica attraverso la sua ricerca è riuscito a trovare un modo per immaginare il mondo che è unico che è riconoscibilissimo se vedi un'immagine di Paolo Venture e sai chi è lo riconosci subito perché è proprio una poetica identitaria forte ecco grazie Monica Poggi Dipartimento Mostre di Camera Cristina Raimo volevi dire qualcosa che tu e poi chiudiamo se Arianna non ha niente da dire mi fa piacere chiudere su questo tema dell'errore le strade sbagliate ovviamente insomma avendo una platea di studenti gliel'avranno detto mille volte che sbagliando si impara però in particolare in questa diciamo professione mi fa piacere diciamo citare le parole di Paolo Pellegrin che è un altro diciamo autore importante italiano un fotografo importante italiano con cui abbiamo parlato recentemente proprio a proposito della carriera di un fotografo di un giovane fotografo e quindi gli chiedevo ma se tu dovessi dare proprio due consigli un consiglio a un ragazzo che ti chiede come hai fatto e lui ha consigliato solo di darsi tempo di darsi il tempo per sperimentare per sperimentare per lavorare prevedendo prevedendo anche anche l'errore soprattutto per non tirarsi tempo per non tirarsi ma indietro rispetto anche alle alle concomitanze alle casualità no? davanti a cui la vita la vita ti ti mette e insomma darsi darsi da fare e in ogni in ogni circostanza senza anche pensare a volte di essere arrivati al risultato in tempi brevi darsi tempo lavorando lavorando sodo anche perché uno quando pensa al fotografo all'artista pensa sempre all'immagine della della sregolatezza invece tutto quello che io ho imparato in questi anni di lavoro a contatto con gli artisti e che sono le persone più rigorose e più disciplinate che si possa immaginare a volte con una disciplina tutta loro fatta di regole molto personali ma di regole di obiettivi precisi quindi su questa cosa Stephen King ha detto delle parole illuminanti secondo me lui c'è anche un grande scrittore che vomita i lati di una strada e soltanto un alcolizzato lui ha avuto anche un'esperienza diretta peraltro per cui sì no molte volte si hanno soltanto diciamo i vizi dell'artista hanno tutte quante le cose quindi droghe alcol eccetera e dopodiché c'è pochissimo lavoro invece gli artisti erano anche questo oltre a tutto quanto il resto quindi molto lavoro e poi magari anche eccessi oppure poi i geni sono i geni assoluti per cui sono al di fuori di ogni categorizzazione però lì veramente parliamo di persone eccezionali che nascono una volta ogni tot Arianna volevi dire qualcosa tu andrai a vedere la mostra è vero? ormai sarai matura avrei finito la scuola quindi avrai molto tempo lì ecco quindi la mostra la vai a vedere vuol dire qualcosa? io non ti sento però adesso mi senti meglio? buonissimo non so se voi sentite? voi sentite? poco no ma non so come mai sarà quel problema va bene Arianna ci salutiamo allora sì perché tanto chiudiamo qua grazie grazie Arianna allora grazie Cristina Araibo grazie di camera caroselle la mostra che ci sarà nell'autunno guardate sul sito quando scusa? 17 settembre inauguriamo apriamo 7 o 17? non ho capito 17 17 settembre quindi 17 settembre si inaugura dopodiché va avanti fino a quando? 8 dicembre ok fino all'8 dicembre quindi a camera Stato Rima gli indirizzi li trovate online questa 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 trasmissione questa cosa che abbiamo fatto oggi la trovate anche online sugli spazi di Giovanni Sguardi ci vediamo lunedì aspettate che devo fare anche il lancio della settimana prossima lunedì avremo 8 giugno ecco avremo un appuntamento con Luigi Barletta che è un docente universitario dell'Accademia delle Arti di Napoli che ci parla di un genere che è il documentario vi ringrazio molto grazie a tutti quanti grazie a Teo Cavalluzzo grazie a Arianna Polla grazie a Camera ci vediamo la settimana prossima arrivederci ciao grazie a tutti